No, non c'è nè lì là. Amore, amore, ditta, non c'è nè, no. Perché mi sto già prendendo? Ecco, c'è i maschi, c'è i maschi, e adesso devo partire, c'è la cacchina da lato. No, 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 dà se non c'ho il titolo periore di Gliocco Delli, il pronto! Amore, amore, vengo a prenderti. Ma sai che non prende, non faccio il titolo? No ma fai dire queste storie a me che poi... E se non ti cose c'è, ci sono, come si chiamano le ronde? Ne so chi? Le ronde? Eh, ci sono. Ma ora? Ma ora, ma... C'è, c'è, ascolta, ma per me non ho detto che c'è il gabbiano che ti ha regato. E che fa? Dicole, sono le levi. C'è, troppi, a quello che ti fa ancora di. La che non voglio, male. Ascolta, ascolta, sono mandato a casa di Nina oggi facciamo un pippo. Sì, scoppiati i bambini. Ma pippo quanto? Pippo! Pippo? Pippo quanto? Pippo quanto? Quanto? Pippo quanto? Pippo quanto? Quanto? Pippo 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 quanto? Grazie.